61 anni, rumeno, George Bucaenco, arrestato comandato europeo in un villaggio 260 chilometri da Costanza, in Romania. E lui, secondo gli investigatori, l'uomo che con una spranga di ferro ha assassinato Antonio Pagano, 69 anni, di Taranto. Era il 13 novembre del 2010. L'omicidio efferrato si consumò in un angolo nascosto di un casolare semiabbandonato, disandonato a Talsano, precisamente in contrada sanarica. Una casa fatiscente in uso alla vittima. Il cadavere fu rinvenuto solo qualche giorno dopo, il primo dicembre, quando alcuni vicini di casa, non vedendo più l'uomo, lanciarono l'allarme. Il corpo fu trovato nascosto da un cumulo di foglie secche dietro il casolare, sul capo evidenti ferite provocate da un grosso tubo di ferro. La testa era stata evidentemente fracassata a suon di colpi con il tubo idraulico, rinvenuto poi dagli agenti della squadra mobile e sequestrato appunto come arma del delitto. E dopo oltre un anno di indagini, l'arresto del presunto omicida. Bucaenco conosceva la sua preda. Secondo alcune preziose testimonianze, il 61enne frequentava quasi giornalmente Pagano. Lo aiutava infatti nelle faccende domestiche, ma frequenti erano le liti. Il movente infatti, secondo gli investigatori, sarebbe una discussione protratta per giorni. Il rumeno avrebbe chiesto a Pagano di costruire una dependanza nella sua proprietà per andarci a vivere con la compagna. Rumena anche lei, trentenne, è strana ai fatti. Oltre alle testimonianze, indizio importante che ha fatto stringere il cerchio attorno al nome di Bucaenco, è stata l'auto una Fiat 1 di proprietà della vittima. Dopo l'omicidio, il presunto killer ha preso il mezzo per fuggire. Secondo le rilevazioni degli investigatori, l'auto è passata prima dalla Basilicata, poi dalla Calabria ed è stata infine abbandonata a Caporizzuto, nella provincia di Crotone. Primo temporaneo rifugio del 61enne, località dove l'uomo, prima di lasciare l'Italia, ha preso contatti con un gruppo di concittadini. Con Bucaenco, spiega il dirigente della squadra mobile di Taranto, Roberto Pititto, abbiamo preso un soggetto pericoloso, già condannato per un altro omicidio in Romania, per il quale ha scontato 20 anni di carcere. Uscito di cella e venuto in Italia, era infatti a Taranto da poco tempo, per reiterare il crimine. Non solo, atteggiamenti aggressivi spesso erano riservati anche alla sua compagna. Il PM che ha eseguito le indagini, il procuratore aggiunto Graziano, ha contattato la polizia rumena e dopo un ultimo periodo di osservazione il caso si è chiuso con l'arresto, qui seguirà l'estradizione.